Cara sorella, ora vorrei parlare con te di un dilemma che mi tormenta. Certo. Dimmi di cosa si tratta. Aspettiamo l'arrivo del Signore per essere portati nel regno dei cieli, ma il nostro Signore non è ancora arrivato. Dimmi, quando finirà tutta questa atroce sofferenza? Diciamo sempre che il Signore è alle porte, eppure Egli non è ancora arrivato. La nostra fede è sempre più debole. Siamo nel 2016 oramai. Le profezie del Suo ritorno si sono quasi tutte avverate. Anche le quattro lune di sangue, perfino i non credenti, tutti sanno che il grande disastro è imminente. Il nostro Signore dovrebbe essere già tra noi. Dunque dimmi perché non lo abbiamo ancora accolto tra le nostre braccia. Sì. Mi sento a disagio dentro di me. Se continuiamo a osservare i cieli attendendo ciecamente la discesa del Signore con le nuvole, saremo mai in grado di incontrarlo davvero? Già. La repressione e la persecuzione del PCC diventano sempre più folli. Oramai le nostre case non sono più nostre. E chissà quando saremo catturati e mandati in prigione anche noi. Per quanto tempo ancora dovremo sopportare questa sofferenza? Bramiamo che il Signore ci riporti in alto nei cieli e ponga fine a questa sofferenza. Ma adesso il grande disastro è quasi compiuto. Ma il Signore dov'è? Ditemi che cosa sta succedendo. Già. Non stiamo tutti aspettando che scenda tra noi. Non è ancora arrivato. Ma chi può dirci quale sia il vero motivo? Ormai tutti abbiamo potuto vedere che i disastri stanno aumentando. Le quattro lune di sangue sono apparse. È vero. Realizzando la profezia biblica nel libro di Joelle. E anche sui servi e sulle serve spanderò in quei giorni il Mio spirito. E farò dei prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. Amen. Ho riflettuto a lungo su questa famosa profezia e ho capito che l'apparizione delle quattro lune adempie la luna in sangue. Inoltre, la profezia recita Il grande e terribile giorno potrebbe essere un riferimento al grande disastro in arrivo. E anche sui servi e sulle serve spanderò in quei giorni il Mio spirito. Queste parole devono riferirsi a ciò che Dio farà durante il periodo che precede il grande disastro. Sì, credo che questo sia giusto. Ecco in che modo ho compreso questa profezia. Sembra che prima dell'arrivo del grande disastro, lo Spirito di Dio pronuncerà le parole per annaffiare i Suoi servi e le Sue serve. Io sento che compierà una nuova fase dell'opera negli ultimi giorni. Si accenderà una nuova luce. Che Dio sia lodato! Sia lodato! Dunque, le parole dello Spirito di Dio, quelle dello Spirito Santo alle chiese nel Libro dell'Apocalisse, sembrano essere strettamente correlate. Per molti commentatori della Bibbia, prima del disastro, Dio creerà un gruppo di vincitori. Questo è ciò che penso anch'io. L'espressione dello Spirito di Dio deve essere correlata alla creazione di un gruppo di vincitori. Agli occhi di Dio, i vincitori sono tutti servi e serve di Dio. Grazie al Signore. Ecco di cosa si tratta. Giusto. Io più ci riflettevo, più intuivo il mistero di questa profezia. Se le cose stanno così, ora dovremmo subito cercare i discorsi dello Spirito di Dio, vedere dove compaiono le parole dello Spirito Santo dedicata alle chiese. Giusto. Beh, ora che l'hai detto, mi ricordo la profezia del Signore Gesù sulle vergine sagge che erano andate al banchetto quando udirono la voce dello sposo. A mio avviso, dobbiamo trovare in fretta l'opera dello Spirito Santo e vedere dove si trovano le orme dell'opera di Dio. È della massima importanza. Sì. Fratello Fang, ciò che hai comunicato oggi è l'illuminazione dello Spirito Santo. Fantastico. Grazie al Signore. Sì. Tu dici che l'espressione dello Spirito di Dio si riferisce alle parole dello Spirito Santo alle chiese. Sai, questo mi ricorda che il Lampo d'Alefante ha già assistito al ritorno del Signore, di Dio Onnipotente, il quale ha espresso molte verità e ha iniziato l'opera di giudizio cominciando dalla casa di Dio per poi creare un gruppo di vincitori. Voi pensate che questo sia legato allo Spirito di Dio che annaffia i servi di Dio e le Sue serve? Se fosse così, avremmo un percorso da seguire. Indaghiamo per capire se il Lampo d'Alefante sia davvero l'opera di Dio. Che ne dite, fratelli? Sì, dobbiamo esaminare questo argomento. Caro fratello Fang, ciò che hai comunicato oggi accende una nuova luce in noi. L'ho dato sì al Signore. È qualcosa che non avevamo mai compreso leggendo la Sacra Bibbia. Già, ringraziamo il Signore. Tuttavia, quanto alla possibilità che il Lampo d'Alefante sia davvero opera di Dio, io la penso così. Il Lampo d'Alefante testimonia che il Signore è tornato tra noi, ha espresso la verità e svolto la Sua opera di giudizio. Com'è possibile questo? Il Signore Gesù preannunciò che sarebbe sceso con le nuvole negli ultimi giorni. Ma fino ad ora, non abbiamo mai visto il Signore scendere con le nuvole per portare i credenti nel Regno dei Cieli. Allora, come possiamo confermare che il Signore Gesù sia tornato? Inoltre, i pastori e i capi religiosi spesso affermano che tutte le parole e le opere del Signore sono nella Bibbia. Non esistono sue parole o d'opere al di fuori del testo sacro. Pertanto, la nostra fede nel Signore è la fede nella Bibbia. Se ci allontaniamo da essa, allora tradiamo il Signore. In ogni nostro momento, dobbiamo tenerci stretti alla Bibbia e al nome del Signore. Soltanto in questo modo potremo essere portati tutti nel Regno dei Cieli. Cara sorella, parlando dell'accoglienza del Signore, continuiamo ad ascoltare le parole dei pastori e degli anziani in attesa che discenda con le nuvole. E se esistono testimonianze secondo cui il Signore sia già tornato, le respingiamo a priori. Questa non è l'intenzione di Dio. È da un po' di tempo che mi chiedo. Tante brave pecore hanno accettato il Lampo d'Alevante. La maggior parte di loro comprende la Bibbia. Sono tutte persone riflessive e molto intelligenti. La loro accettazione del Lampo d'Alevante l'avranno ottenuta solo dopo lunghe ricerche e indagini. Di questo sono certo. Sì, non l'avrebbero mai accettato alla cieca. Quindi, dobbiamo cercare e indagare ancora sul Lampo d'Alevante. Se il Lampo d'Alevante è la manifestazione del Signore, non saremo in grado di incontrare il Signore. Già, è vero. Se il Lampo d'Alevante non rappresenta il ritorno del Signore, guadagneremo un po' di buonsenso. Questa non è una cosa positiva. Certo. Piuttosto che essere intrappolati nella chiesa senza un posto dove stare, potremmo andare a indagare sul Lampo d'Alevante. Sì. Andiamo e scopriamo se davvero è già tornato. Almeno sapremo come stanno le cose. Giusto. Non è così, cara sorella Fu. Dovremmo esaminare la questione. Già. Sorella Fu, abbiamo aspettato fino ad ora, ma il Signore non è ancora venuto. Esattamente cosa sta succedendo. Sia lodato il Signore. Sia lodato. Fratelli e sorelle, siamo alla fine del periodo degli ultimi giorni. Sì. Le profezie del Suo ritorno si sono quasi tutte realizzate. Amén. Allora è davvero possibile che nel 2000 il Signore scenderà sulle nuvole per portarci al Regno dei Cieli. Amén. Amén. È proprio così. Il Signore non ci abbandona mai. Oh Signore, è forse sbagliato aspettarti in questo modo, Ti prego, dimmi. Perché non Ti abbiamo ancora incontrato? Non riesco a trovare una risposta. Signore, il lampo d'Alevante testimonia che Tu sei tornato. È vero o no? Ti prego, dimmelo. Oh Signore, io su questo non ho certezze. Ti prego, Signore, illuminami. Sorella Fu, quello che hai detto è giusto. Le profezie del Signore sicuramente si avvereranno, ma di recente ho controllato tutte le profezie della Bibbia per quanto riguarda il ritorno del Signore. Quando profetizzò che sarebbe tornato, non solo di sé egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, ma annunciò anche che egli verrà come un ladro. Giusto. Proprio come disse il Signore nel Vangelo di Matteo 24, 43-44. Ma sappiate questo, che se il padron di casa sapesse a qual vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzarla a sua casa. Certo, è così. Perciò anche voi siete pronti, perché nell'ora che non pensate, il figliuol dell'uomo verrà. E che dire dell'Apocalisse 3, 3? Queste profezie ci dicono che il Signore verrà come un ladro. Dovrebbe giungere in silenzio, senza che nessuno se ne accorga. Già. Sì. Pertanto, quando si tratta del ritorno del nostro Signore, non possiamo descriverlo arbitrariamente e dobbiamo indagare con maggiore impegno. Questo è il solo e unico modo di accogliere il ritorno del Signore. Dobbiamo cercare e indagare di più. Giusto. Fratello Fang, la Sacra Bibbia preannuncia che il nostro Signore tornerà tra noi come un ladro, ma l'intero mondo religioso la sta interpretando come se significasse che nessuno saprà quando il Signore tornerà. Giusto. Proprio come disse il Signore Gesù, perché nell'ora che non pensate, il figliuol dell'uomo verrà. A mio avviso, questo dovrebbe significare che il Signore scenderà tra noi, ma lo farà con le nuvole per prendere i santi quando nessuno se lo aspetterà. Mi sembra corretto. Ora che ne stiamo parlando, ricordo che qualche tempo fa, mentre ero nascosta a casa di un mio parente, incontrai delle persone che diffondevano il Vangelo del Lampo d'Alevante. Il Lampo d'Alevante? Sì. Mi hanno comunicato le profezie del Signore, come l'Apocalisse 16,15, che recita «Ecco, io vengo come un ladro». Non solo, anche Matteo 25,6. E sulla mezzanotte si levò un grido «Ecco lo sposo, uscite gli incontro!» E per finire ricordiamo l'Apocalisse 3,20. «Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e ce n'erò con lui ed egli meco. Secondo la loro interpretazione delle parole del Signore, egli tornerà come un ladro e questo succederà a mezzanotte quando si griderà «Ecco lo sposo!». Ciò spiega che in un momento ignoto a tutti noi, Dio scenderà incarnandosi nel Figlio dell'uomo e scenderà in silenzio e in segreto per parlare e operare. Sì, è vero. Non tutti saranno in grado di vederlo e di conoscerlo, questo è certo. Soltanto chi può conoscere la voce del Signore può riconoscerlo davvero e accettarlo. È così. Hanno anche detto che solo coloro che ascoltano la Sua voce, quando sentiranno parlare del Suo ritorno, potranno essere portati davanti al trono per prendere parte al banchetto. Allora, quello che dicono è giusto. Il Signore Gesù lo rende molto chiaro nelle scritture. Non tutti potranno vedere il ritorno del nostro Signore. Solo chi sa riconoscere la Sua voce sarà in grado di incontrarlo. Se il ritorno del nostro Signore corrisponde alla discesa con le nuvole, allora non tutti potranno vederlo. Già. Già. A me sembra che il ritorno del Signore sia volto da un grande mistero. Sorella Xuxu, ascoltando le tue parole, sembra che quelle persone dicano cose conformi alle profezie del Signore. Le profezie del Signore Gesù si riferiscono proprio all'ascolto della Sua voce. Giusto. Sembra che dovremo stare attenti per ascoltare la voce del Signore a accogliere il Suo ritorno. Giusto. Quello che avete detto ha molto senso. Noi soffermiamoci solo sulla profezia della discesa con le nuvole, ignorando altre profezie sul ritorno del Signore. Ah, giusto. Questo ci farebbe incorrere in errore. Giusto. La terra e il cielo passeranno, ma non le parole del Signore, quelle mai. Sì. Visto che si tratta delle Sue profezie, sicuramente si realizzeranno tutte. Sì. Già, le Sue parole si avvereranno. Per quanto riguarda la maniera in cui queste si realizzeranno, sicuramente esistono tanti misteri e verità che non riusciamo proprio ad afferrare. Sì, è vero. Sì, sì. Ha ragione. Già, in quel caso, non dovremmo imporre limiti arbitrari. Sì, giusto. In questi anni, il Lampo d'Alevante ha continuato a testimoniare il Suo ritorno per svolgere la Sua opera di giudizio negli ultimi giorni. Mhm. Ma noi non abbiamo condotto ricerche su questo argomento. Sì. È vero. È giusto. Al contrario, abbiamo seguito pastori e anziani, negando e condannando il Lampo d'Alevante. Sì, infatti, è proprio così. Tutto sommato, quello che stiamo facendo può essere sbagliato. Sì. È vero. Sì. Noi dovremmo indagare tutti quanti sul Lampo d'Alevante per capire quale sia la vera via da seguire. Sì, dobbiamo tutti indagare. Sì, certo. Esatto. Sorella Xu, Sì. Potresti invitare qui i fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente per comunicare con tutti noi. Certo. Certo. Bene, dovremmo indagare. Sì.